Un prezioso mosaico costituito da numerose tessere colorate, ciascuna con una ben propria precisa identità. Così appare, al primo sguardo, la pagina web dedicata alle opere partecipanti alla mostra Micro 2. E proprio come in un mosaico è utile sì la visione unitaria, in grado di conferire un senso all'insieme e, in questo caso, innescare numerose riflessioni sull'eterogenità della produzione artistica attuale e sulla sua vitalità. Ma ancora più utile risulta l'osservazione ravvicinata delle singole unità, che porta a riconoscere come caratteristica specifica di una tale configurazione proprio la discontinuità e il carattere discreto. Procedendo secondo tale seconda via, abbiamo l'opportunità di considerare ogni singola opera, a prescindere dai gusti personali e dal giudizio di valore che ne possiamo dare, come un piccolo aiku pittorico, una gemma in grado di condensare in poche battute una delle tante modalità di produrre arte oggi. Con la raccomandazione di porsi di fronte alle opere, con il medesimo atteggiamento di attenzione e concentrazione che potremmo assumere proprio di fronte a un aiku, ovvero con gli occhi e le orecchie ben aperte, pronti per farci guidare nella percezione di fenomeni e di aspetti del reale dapprima mai considerati. Grazie a tutti!